Ben tornati su CuperTV, oggi è il 12 dicembre 2018, siamo arrivati a mercoledì, inizieremo costruendo un heavyset di 3 power clean e a seguire il WOD sono 3 round di 20 hang power clean, 20 front squat e 20 push press, pesi e carichi sulla grafica qua di lato. Per oggi è tutto, seguiteci anche su Instagram, ci vediamo domani per un altro WOD. Ciao, buona giornata.